Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti, abbiamo risalito le cascatele correnti, abbiamo trovato due serie continenti, ci siamo abituati ai più grandi nuotamenti, abbiamo stati pesci e poi i reti e i mammiferi, abbiamo scoperto il fuoco, inventato il frigorifero, abbiamo imparato a notare, voglio correre e voglio stare immobili, eppure questo vuoto, tra la stanza e quella gola, ragia e informabile, attenzione e produttiva, nessuno si disfetta, ingoiando la famiglia, signori e signori, signori e signori, il mio paese è successivo, sento e salvo a un minuto, il consolo, il cuore, salenti! A un minuto, il consolo, il cuore, salenti! Il consolo, il consolo, il consolo, il consolo, il consolo, i Очень Fangio Cao, il psicologo, 3, 4 L'inferno 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 Ora ci riposta Dicona Seregi Grazie a tutti. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!